L'estate entra nel vivo e con l'aumentare delle temperature si fanno sempre più calde anche le critiche che il Movimento 5 Stelle di Fiumefreddo di Sicilia muove nei confronti dell'amministrazione Alosi. Giosuè Malaponti spiega ai nostri microfoni quali sono, per i pentastellati, gli atti contraddittori del sindaco e dell'amministrazione comunale. Petane e Passerelle, il fatto che l'amministrazione li monti ogni anno il primo di luglio, secondo me è un disagio, un disservizio che si crea per quella gente che ha ridotta mobilità e diversamente abita e non aspettare un mese dall'apertura della stagione balneare per poter magari scendere a mare. L'aspetto strisce blu, che ben venga l'acquisizione della strada, tutto sommato ci sta benissimo, però vorremmo capire da parte dell'amministrazione, ma del comandante della Polizia Municipale e del responsabile del terzo servizio, perché il lato monte che va dall'incrocio di Mania di Cottone sino ad arrivare quasi al confine di Fondaghello, lato monte e bianco, invece dall'incrocio andando verso il confine con Calatabiano, quindi al semafa del ponte sul firme freddo, invece sono blu, lato mare e lato monte. Dico che ci spiegano qual è la motivazione e la scelta di questa condizione. Un plauso va sicuramente all'amministrazione per la scelta dell'assistenza bagnante a mare, dico che è l'unico comune che in realtà garantisce questo tipo di servizio, però per bocca del sindaco dice anche che non è un servizio obbligatorio. Un servizio che non è obbligatorio, allora vorremmo capire perché lo fai se non è obbligatorio. Tra l'altro rincara la dose dicendo che il costo del servizio era al 50% a carico della regione, il 25% a carico della ex provincia e il restante 25% a carico del comune. E ancora di più il sindaco aggrava la posizione dicendo che almeno da oltre tre anni nella regione e nella provincia ha mai dato questo contributo, quindi non è obbligatorio, non ti danno soldi, bastano i cartelli che ci sono montati ogni ingresso a mare dove ti dice che non è assicurata il servizio di salvataggio, con 1000 Euro ce ne usciamo e non buttiamo via 35.000 Euro di spese, visto che dal 27 di aprile con l'assemblea pubblica al cinema ha informato i fiumefredesi che siamo a corto di soldi, allora se non è obbligatorio non farlo, quindi quantomeno chiediamo all'amministrazione di avere contezza di quello che si fa e di dare quantomeno risposte agli operatori commerciali, quelli che sono sul lungomare, dare questa spiegazione del perché due chilometri circa, due chilometri e sette di strisce bianche a lato monte e 500 metri di strisce blu lato mare e lato monte, su questo attendiamo chiaramente. Si poteva anche scegliere di fare tutte strisce blu perché non è un problema del codice della strada e la scelta del proprietario della strada potrebbe essere anche questo il fatto di dare più fiato alle casse del comune, tenuto conto che sino a questo momento il comune solo per garantire servizi a mare a speso a bellezza di 78 mila euro, resteranno a carico dei fiumefredesi le 100 euro, le 130 euro, le 120 euro di tonnellate sul conferimento in discarica, sul totale delle tonnellate, quindi oltre 78 poi magari a fine stagione al 30 settembre chiederemo all'amministrazione quanto sono le tonnellate e quanto abbiamo speso di conferimento.